Is this the real life? Cari maestri, grazie mille per tutto quello che avete fatto per noi in questi anni. Il prossimo anno verrà a trovarvi. Non vi libererete facilmente di me. Grazie a tutti i maestri per questi cinque anni passati insieme. Ciao, ringrazio i maestri per tutto quello che mi hanno insegnato e me lo porterò dietro per tutta la vita. Ciao maestri, grazie per questi cinque anni passati insieme a voi, mi mancherete tutti. Ciao! Ciao e grazie di tutto! Ciao a tutti, io volevo salutare i maestri e i suoremi. Ciao! Ciao a tutti, mi mancate tanto. Volevo farvi un saluto ed un augurio per le scuole medie. Ciao maestra, ciao compagni! Ciao maestri e i suori del MAUX, vi ringraziamo per il supporto e l'attenzione che ci avete dato in tutti questi anni. Per la nostra famiglia, poi si conclude un intero ciclo di frequentazione della scuola, dal 2011 fino ad oggi, con asilo e due cicli di scuola primaria. Un grazie di cuore. Ciao a tutti! Ciao! Grazie! Ciao, grazie! Grazie! Un grazie di cuore a tutti voi maestri che ci avete sostenuto in questi ultimi cinque anni. Grazie! Per tutte le cose che avete fatto per me in questi cinque anni, vi volevo dire grazie. Grazie! Grazie maestri per avermi fatto crescere e istruita in tutti questi anni, vi voglio dire. Ciao a tutti, grazie per questi anni passati insieme, avete insegnato molte cose, però sempre al mio cuore. Cari maestri, cari maestre, grazie per questi anni trascorsi insieme, farò tesoro dei vostri insegnamenti e sono pronta a spiccare il volo e tutto questo grazie a voi. Col cuore, Noemi, PS, saluto tutte le suore. Un saluto a tutti, alla scuola, agli insegnanti, alle suore, ma soprattutto agli amici. Un bacione da Vittoria! Degli abbracci molto speciali ai miei maestri eccezionali. E un saluto affettuoso a sua Maria Teresa, sua Remi e sua Clavia. A tutti dico... Grazie! Ciao maestri, grazie per questi bellissimi cinque anni passati insieme. Ciao! Arrivo io adesso, ciao! Grazie maestri per tutto ciò che mi ha insegnato. Mi mancherai, ma ci rivedremo presto alla Maria Osigliatrice. E' difficile accettare, avventure già vissute, ma in fondo... Ciao maestri, grazie di tutto. E' piena di sorprese, quei ricordi ormai sbiaditi. Grazie per i miei cinque anni passati insieme. Un bacione a tutti, I love you! Ciao maestri, questi anni sono stati molto belli insieme. Ciao da Matteo. Se spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge, è difficile cambiare. E per quelli come noi, si sentono insicuri. Grazie a voi, ho imparato molte cose. Da Sonia. A volte siamo un po' in mano. Questo video per salutarvi e ringraziarvi per tutto quello che nei cinque anni di scuola alimentare avete fatto per me. Siete stati accoglienti come una casa, caldi come una coperta, pazienti come una mamma e brillanti come il mio apparecchio. Io non mi dimenticherò mai di voi e spero che voi non vi dimenticherete mai di me. E' difficile arrivare, puntuali di mattina. Io ringrazio i maestri per questi cinque anni passati insieme. Mi mancano tantissimo e non vedo l'ora di rivederli. C'è una stella da raggiungere e se no non ha più senso. Semplicemente grazie. Ciao! E c'è solo una risposta. Ciao maestri! Volevo ringraziarvi per avermi fatto passare questi cinque anni molto belli, per tutto molto divertenti. Spero di rivedervi presto e buona sera. Noi cerchiamo una risposta, ma poi quando... Ciao a tutti, grazie di tutto. Bye bye! Ciao, grazie di tutto. Grazie a tutti i nostri compagni che sono stati con me in questi anni, grazie ai maestri che ci hanno insegnato. Adulti di nascosto, ma che forse adulti non saremo mai. Ciao a tutti i nostri compagni che sono stati con me in questi anni, grazie a tutti i nostri compagni che sono stati con me in questi anni.